Ciao ragazzi, qui è Blaster, benvenuti come un ospite speciale, Giovanni Stefano! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Sono Dado, il cooperatore del secondo canale di Blaster. Cosa si fa oggi? Cosa vedete voi? Oggi roveremo 36.000 gemme da FTP Free True Play. True. True Play. Quindi andiamo subito nel posto dove Dado era a mesi che voleva andare, ma che non poteva andare. Ovvero... Allora... Che brutto! Ho voluto mettere la modalità requisiti minimi, dai. Cosa devi fare adesso? Voglio vedere quanto spazio. Ma va, fa al culo, dai, prendi il portato. 132. Ai 20 spazi, tutti spazi. Trovo tutti in blu. Ma non serve, infatti facciamo un video per quanto il blu. Eh, ragazzi, non per Blu Hero. Ah, ragazzi. Ma devo ritornarmi, puoi rifare l'evento, perché se no... No, questo qui... Pigia. Pigia? Via! Prima rollata! Prima, la seconda c'era una... Seconda rollata, stregone. Seconda rollata, stregone. Me lo doppio e volvo, questo è sicuro. Doppio e volvo, stregone. Linfa, linfa, carnefice. Folle, ma donna, ne sono pieno. Allora, vuoi farne una tu? Allora, tre. Quanta? Assassino. Tre assassino! Trento! Mi mancava! Grande! Oh, le! Già, non è che mi manca il nero? Non è che... A quanti, ormai... A me manca, per la lavatra mi serve. Non lo porterò mai su. Madara! Tu vuoi che vada su? Non lo porterò mai su. Ma... Ciclope, ciclope, tritone, panda. Fa-inda! Fa-inda! Ma c'ha un frammento nel bracciale, il... Ciclope. Ciclope. C'ha... Ma guarda per lui! Allora, fermi! Allora, rollata! Questo là lo trovi. Gigante! Ecco lei! Ciclope. Ehi, ma stiamo qui, due? Oddio! Due, tre, che sei c'era! Tre, che sei c'era il giro e l'angelo. Due, per dio! Tre, che sei c'era il giro! Tre, che sei c'era il giro! Oh, voglio Anubi! Vole ancora Anubi! Non voglio Anubi! Madonna! Madonna! Oh! Mi mancava! E Snowzilla che è rarissimo, tra l'altro. No, non è rarissimo. È rarissimo trovarlo rollando. Però, culo! Non lo usa nessuno. Però è rarissimo trovarlo rollando. In questo momento il mio è detto che questo basta è 3 euro. È 30 euro. È 30 euro. E' rarissimo. Ecco, volevo usarlo oggi, ho detto il domatore di animazione 5 e non lo userò mai. Il domatore di belvo, ho detto oggi, lo vuole usare nel boss, Gilda. Gigante! Yes, motherfucker! Che poi il gigante è fierissimo. Mi piace. Gigante? Cioè, era un po' come si trovava. Ma in da... Madonna! Madonna! Candy cane! Madonna! E me lo doppiavo rollando, non lo trovo altro! Voglio barba! Mi manca barba! Perché mi chiedi? Mi chiedi. Ma tutti i nuovi esistono, perché io non ne rollo uno. Non c'è nessuno. L'ultimo che ho trovato è Redi Vivo. E' Golem! A San Valentino. Allora! Tocca a me. Un verde. No, tocca ancora a me. Finché non trovi un bluolo. Un bluolo. Ragazzi, ho accumulato mesi! Mesi e mesi di gemme! Oh! Panale! Oh! 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 Siamo oltre la metà, eh? Guarda, ha salito 50, ma dopo la 50. Ma stai sicuro? Grazie! Vai, che lo fa! Fra metà video, dovrebbero toglierli. Oh! Oh! Cos'era? Guardi, è vero! Viola? Sicuro? Sì. Hai la vista a mille frame? Tru... Che schifo! Mi trollano oggi, eh? Beh, tu vado a trovare la piazza, guarda. Non potessi anche... Ma... Ma invece no. Non puoi arruvar tutto. La volta la tre di bar la piazza. È finito. Dove è forno. Dove è forno. Dobbio volo. Dobbio volo. Ninja! Ninja! Ninja, ragazzi! Madò... Guardate, che ferro che è Ninja! Ninja. Dite che lo trovo, Anubis. Ma basta. È trovato Michele. Direi che abbastanza. No, è Anubis. Orco del Dio. Nooo. Fine magia. Fine della magia? No, io vendo tutto. Temo data tablet. Eh? Temo data tablet, nel senso che tocco. Uh! Che figo! Quanti frammenti che mi servono! Perché sono rimasto a zero i frammenti. E invece non era vero. Ne ho un milione. No, no, 140 mila. Ora posso finire a 200 molto nuove. Hmm. Io direi di continuare le nostre rollate epiche finite male. Spero che non finisca male. Qualcosa... Io voglio trovare almeno un altro. Non che mi manchi, ma almeno uno nuove. Ah, nubi. Ah, nubi. Ah, nooo. Porco il suo. Molto finito. Ah, nubi. Porco il boss. Non mi arrendo. Porco la mano a molla. L'ultima. L'ultima. No. Anubis, più o meno. È il capo di Anubis, tecnicamente. Allora. Madonna. 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 Allora. Guardiamo eroi. Beh, gli si bussero e poi me li butto via. Tutti col tre. Cosa ho trovato? Due galli ai morti. Un orco. Un 30 euro. Uno stregone. Barba bianca. Oddio. Ma tu l'ho. No. 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 Ragazzi, vedetevi se in diretta. Cosa stava per succedere la cosa che... Alen ti avrei dovuto 500 euro per il tablet. Minchia. No. 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 Lo usano tutti. Ora vedrò un attimo se usarlo anch'io. A quanto pare è valido. Un sacco di eroi da poter uscire. Un sacco di eroi sì. Torniamo un po'. Se mi serve qualcosa. No. Ci ho finto. Allora. Ma diamo i talenti. I talenti. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Uuuuh. Una. Facciamo l'ultimo. Questo qua sei roll del culo, eh. Buono. Vabbè. Era roll del culo. Non potevo. I talenti eroi. Ah, li andiamo a vedere. Magari ho sciuttato Barbara Bianca con Bastion 5 da 7. Il Bastion è già 7. Lo vedete, mia squadra verrà sostituita oggi. Forse questo angelo da l'angelo è ancora più forte. Tranquilli, c'ho solo i viola potenziati tutti al centro. Questi sono solo 4. La Barbara Bianca con un guardiano di fuoco. Anche quell'altro. Magari 5, 2. 2. Fodaro e quell'altro. Ma anche Luca Fodaro. Ah, avevo detto 8. 8 su 8. Ah, ah, ah. Ah, disco. Ah, ah. Oh. Che b***a. Che non è nulla di certo. Oh, bella la scremata. Oh, da solo. Per 100 genna sono andati due. Quanto? Madonna, senta una. Ho trovato solo 3 eroi morti qua. Pensi tanto. Vai, vai. Mi prendono anche questi tomi. Che non fanno male. Non potessi donarli a un barbola. Non è caro. No, quasi quelli. Sì, quasi un cazzo. Quasi, sì. Mi prendono a fila la bocca. Tu sai, caraviglia, cosa mi cazzo a prendere. Oh, Succub. 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 Allora. Proprio oggi non si va da spese. Domani mi capita la cosa aggiornare al talento e non lo fa oggi. Allora, devo ingaggiare. mille, 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 mille. Ho solo 20.000 cambiamenti. Perché non si può nevegli grossi? Fai prima. Che mi scappa al dito. Ciao. Ciao. Finito il video? No. No. Allora. Io sono in questa fantastica gilla. In cui c'è anche Blast. Che ho, ma da Rockin, è una delle gilla più forti italiane. E saluto. Il capo, Lucas. Lucas. Allora, io saluto. Lucas01, Lucas03, Lucas02, che è la stessa persona. Poi saluto. Pira731, Pira732, Fania68. Stemi stavi stuola. Fania02. Quanti profili hai, Fania? Oh, no, 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 di più. Fania siamo a 5. Fania 68. Pira732 siamo a 7. Basta? Sette profili. Allora, saluto. Federico. Fania. Lukic. Mano del Cossu. Acab. Alo. Acab. Alo. Filo. Gianlu. Guarda, ma 70 giorni. Esatto. 70 giorni. Saluto. Sabre. Lestrast. E Tommaso, com'è che fa di cognome? Poi lascia. Cianlascia? No. Perché mi sembra che non ci sia il coso. E oggi siamo buoni. 50.000 fra me. Grazie. Non può. E lei non esistete a sti verso di stare. Bene. Da Dado, passate sul mio canale, il getto di Dado. Poi se è al mio canale, iscrivetevi al canale di Halo, che è questo, di Blaster. Ma ormai, ormai ero scatto a fare. E... Stavo, fight era l'ending. Ci vediamo in prossimo video. Bella ragazza. Eh. Bella ragazza. No. No, perché sì. Ah, l'agga anche. Sì, lo sa che si scrive. Ciao. No. Grazie a tutti